ciao amici ci ritroviamo anche quest'anno a fare un video tradizionale con edoardo ciao che è il video introduttivo a una fiera importante del nostro settore che si terrà a barcellona dal 30 gennaio al 2 febbraio compresi che è l'integrated system europe ise tra l'altro quest'anno è il ventesimo anno di ise 20 anni ragazzi 20 allora sarai preparatissimo si molto e allora li faccio tutto di questa fiera e allora gli facciamo le domande dai metto le cupie va beh la più facile se dove si terrà la fiera ise barcellona dove esattamente fira gran via dal al dal 30 gennaio al 2 febbraio e cosa succederà preparatissimo cosa faremo noi come agi multivision mi tolgo le cuffie accompagneremo i nostri clienti che vorranno visitare la fiera insieme a noi a conoscere le novità presso gli stand delle aziende che rappresentiamo tipo tipo un telecomando sembra riconoscerlo chief dalai data per digital projection all technologies interspace industries laia vuoi continuare tu l'audo suden luksum middle atlantic peerless av philips professional display solutions vadio e optama beh ne abbiamo di partner assolutamente sì e questo vale per tutte le persone che potranno partecipare fisicamente assolutamente sì potranno volendo insieme a noi come dicevo visitare le novità presso gli stand di questi brand che abbiamo appena menzionato oppure se vogliono potranno visitare in autonomia se visitate lo stand di uno dei brand che abbiamo menzionato poco fa e vi identificate lasciando il vostro biglietto da visita o fate scansionare il quark code del vostro badge come clienti ag multivision vi riserveremo uno sconto extra del 5 per cento rispetto allo sconto standard a voi attribuito per il prossimo ordine che deciderete di inviarci entro fine marzo entro fine marzo 2024 per tutti quelli che invece non potranno partecipare fisicamente avranno l'opportunità di seguirci sui nostri canali social tipo linkedin oppure youtube esatto e a proposito poi su youtube potranno vedere tutti i video che faremo assolutamente sì perché visiteremo per voi gli stand intervisteremo i personaggi famosissimi i nostri famosissimi personaggi e non solo quindi facendo così potrete rimanere aggiornati giorno per giorno su quello che accade alla fiera detto questo come detto tutto detto questo detto tutto vi aspettiamo noi saremo a barcellona già dal giorno 29 di gennaio quindi approfittatene vi offriamo una birra perché non due e come da buona tradizione ciao e come da buona tradizione abbiamo papam e come da buona tradizione hasta luego hasta luego ciao ciao ciao